Andiamo ragazzi, andiamo ragazzi, tre punti molto importanti, tre punti che dovevamo assolutamente vincere e portare soprattutto a casa Un Milan che mi è piaciuto veramente su tutti i lati del campo, un Milan che nel reparto offensivo ha fatto Vendez Fracelli Un Teo Hernandez che regala ancora una doppietta a noi tifosi rossoneri Un Milan che oggi si è andato a prendere tutta la vittoria con una grande forza di gruppo Un grande Florenzi, una grande difesa e un grande Teo Hernandez che con una grande doppietta è anche Bremocci e Leao Migliori in campo, grande Milan, domani vi porterò tutto il video con le pagelle, le analisi per il singolo giocatore Ma godiamoci soprattutto questa vittoria, un Milan che Pioli ha azzeccato tutti i cambi Pioli ha messo in campo una formazione dove si vedeva soprattutto Bagaioco Con i punti integrativi, un Bagaioco che ha fatto ricredere a noi tifosi rossoneri Un Milan che regala questa vittoria soprattutto a noi tifosi rossoneri E regala questa vittoria molto importante al mister che mette una formazione in campo pazzesca Leao che oggi meritava assolutamente di far gol ma nonostante tutto ha fatto due assi molto importanti Una Teo Hernandez e una Ibrahimovic Matteo Hernandez tanta 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 qualità, tanta tecnica Ibrahimovic anche nonostante tutto l'età e anche mi è piaciuto molto Diaz Diaz ovviamente ha fatto una grande partita e anche Florenzi che nonostante tutto si vede che ha il piede caldo Un piede molto importante che può servire a noi tifosi rossoneri soprattutto al Milan Per continuare a combattere per vincere questo scudetto Un scudetto che manca da tanti anni e quest'anno sarà veramente difficile portare a casa Ma noi ci speriamo fino in fondo perché abbiamo da un altro lato l'Inter che giocherà contro la Lazio E sicuramente non farà passi falsi ma noi speriamo sempre tutto nel miracolo E quindi tifosi rossoneri intanto ci godiamo questa grande vittoria per quanto riguarda il Milan contro il Venezia Un Venezia che a mio parere non ho visto neanche giocare, neanche scese in campo Un Venezia che di più di quello non poteva fare contro un Milan che ha dimostrato e ha messo le carte in tavola Per quanto riguarda soprattutto la qualità, il gruppo, l'autostima tra i compagni e un grande magnano soprattutto in porta Un Milan veramente pazzesco, un Milan che mi fa veramente gioire e mi fa veramente, mi dà soprattutto soddisfazioni In due partite abbiamo fatto sei punti, in questo inizio anno abbiamo fatto un grande salto di qualità Il Milan nonostante tutto le assenze porta a casa questi tre punti che fanno bene la nostra classifica Ci porta alla preposizione in questo momento Domani vi porto soprattutto le paginele per quanto riguarda il Milan Ne parleremo più nel dettaglio per quanto riguarda la partita Per ora siamo a 48 punti, prima posizione Aspettiamo tutto la risposta dell'Inter, giocare contro la Lazio Iscrivetevi al canale, lasciate un like, fate sapere a tutti i commenti cosa pensate di questa partita Di questo Milan se realmente è una squadra che può combattere per lo scudetto O deve fare soprattutto anche una strada Ci sentiamo alla prossima, ci vediamo domani per le pagelle Bella ragazzi